Mi sorprendi, Rodan. Vivi davvero sul filo del rasoio. Cosa vuoi? Non l'hai saputo? L'eletto non sei tu, mi dispiace dirtelo. Sarà per un'altra volta. A proposito, ricordi qualcosa dell'esplosione? Una giornata indimenticabile. So solo che sei stato tu, Mark. Non ho nulla da nascondere, ma sai una cosa? Non smetto di chiedermi com'è possibile che tu sia sopravvissuto a uno scoppio del genere. C'erano abbastanza esplosivi da liquidare un clan al completo. Vuoi che ti dica, Rodan? È evidente che la fortuna è dalla tua.